C'abbiamo un cazzo da fare a noi non darci niente E' imprenditore di se stesso Questa skin di Draven Boh Quanto peso è il momento Domattina mi peso perché in teoria sono sugli 80-80 e mezzo Però domattina mi peso perché Ormai sono una settimana e passo E mi peso quindi vediamo Comunque In realtà l'altro mi dà tenacity Sapete un po' meglio questo Perché hanno un casino di cc E dimmi ok tenacity l'ho messa C'è c'hanno solo cc ragazzi C'è tra Nasus Questa e Morgane Comunque Morgane in ogni singolo game Poi vedete perché la banno sempre Ho già il dito sul flash qua In realtà volevo mettere il ghost ma non ho fatto in tempo No 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 Non so che build farò adesso vediamo Ma no comunque penso Allora Ma Che cazzo è stato ragazzi Eh? Eh? No comunque Penso andò Allora Eclipse interessante Però mi piaceva andare a Draktar Solo che la domanda è Ha senso andare a Draktar contro sto team? Nasus Udia Come cazzo di kill Quindi è molto più se Può andare a phaser A shank Comunque Draven jungle Mi viene già da piangere Sappiatelo eh Sappiate mi viene già da piangere Io già non so giocare Draven Non è un campione facile da giocare Tic Oh se sto fermo immobile È la madonna Grazie Oddio ragazzi Io non so giocarlo Draven Non è Ok Io non so giocarlo Draven Sto già impazzendo Mi fa già male la testa Devo usare tutte ste hash Oh Gesù Ciao Sto già impazzendo ragazzi Sto già impazzendo Dico solo questo Sto già impazzendo Non avete idea Ok Oh così Oh Così va molto bene Così va molto bene Signore Molto più facile Ok Oh le Così è tutta altra roba Ragazzi Io non so Mi farò parlare ragazzi Voi non avete idea Della difficoltà Della concentrazione In cui ho bisogno Perché poi Quando inizia a muoverti Le hash Iniziano ad andare Un po' per i cazzi Loro Becca Mamma mia Mi Ma Ci sono già impazzendo Ho fatto un che di giungle Ci sta che più Niente Grazie Silver del Prime E Asbur Asburgico Per i 20 mesi Bentornati ragazzi Grazie mille Oh Jesus Allora dunque È vero che Top ha già fatto una kill E l'ha fatta in 1v1 Quindi Kyle Io non Eh vabbè Eh sì 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 Magistra Magistra Ha ucciso Ma devo dire che comunque Farma bene con le hash Cioè da questo punto di vista Non mi posso lamentare Comunque Kyle Segui le cazzo di call Dai Vabbè Drake Wow ma si Uè ma Raga ma che lo è questo Ma che lo è questo ragazzi Mi fa essere Ma che No Ho perso l'ascia Vabbè Ne ho un'altra Let's go Ne hanno fatto cash in qui Baby Ma Che do cazzo è morta Ma c'è morta Ok 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 Molto bene Ed eccoci qua Buonasera signor Fieric Tutto bene Le volevo chiedere Quando arriverai lunga Lunga H Lo farà a full letaly O in qualche altro modo Buona serata Che fatica ragazzi Giocare a sto campione Mamma mia Comunque Allora Così per forza Andiamo al blue buff Grazie 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 Sarpo del resub Bentornato Avremo tempo per pensarci Avremo tempo per pensarci Ne avremo tanto di tempo per pensarci Jay Quindi penso Lo farò pre rework Questo lo vorrei io Grazie Mamma mia ragazzi Ma questi comunque Quindi ho perso un'ascia Guardandoli Un mezzo secondo Ho perso un'ascia Non posso guardare I miei alleati Ragazzi con Draven Devo solo guardare Le mie asce Dove cazzo atterrano Ok Non è non è non è Ah Di pochissimo Ok E rubiamo Mamma mia ragazzi Preciso O comunque fa tanti danni A ulti di Draven Non pensavo così tanti Non pensavo così tanti Buono Draven out Signore e signori Ciao Fieric Sono passato a rinnovare Di solito Guardo da Fiericlol Come sta andando Come sta andando Bene Cioè sto impazzendo Con un Draven Con un Draven jungle Però Va bene Campione spicy Diablo Royal Vabbè Kill Kill No peccato Non c'ho questo Purtroppo Se lascia meno vita Delle stacche La regiustizia Ok Questo per esempio Non lo sapevo Tic 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 Non Le prendo tutte Le ho perse E vabbè Mamma mia Cioè è veramente Impazzire comunque Il giocare a Draven Ragazzi In giungla Poi soprattutto Devi menar di continuo E tenere a Già Ma non è ancora Spawnato Ragazzi Calma Ma guarda Questi comunque Sono fanatici Del Drake Eh vabbè A fare cosa Cosa vuole Kyle da me Perché non sto gankando top Non so perché Cali sia morta lì Se viene a Cali Qua Facciamo strage Eh sì Flasho anch'io Oddio Ok Uh 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 Oh Presa Eh però Niente Dobbiamo far questo Ok Se sta partita Mi sentirete parlare poco Ragazzi Perché Sto giocando Draven Giaco E lo stai per concentrato Attenzione Kyle Proprio lei A Scarpio Sinceramente Andrei con Con queste Perché Con gli slow Che c'hanno Ragazzi Faccio Faccio il collector Per caso Ancora Di prendere il fottutissimo collector È un coglione Eh niente ragazzi Bella cane fantasma Bella bro Grazie comunque Matteo Porta Per i tredici mesi Sta andando bene Sta andando bene E le re ha parlato Vabbè It's nasus baby Nulla che possiamo fare a riguardo Mi sa No mana No mani Vorrei dire Lord Dominic Bro Ma non c'ha un pezzo D'armatura Questo Vabbè Sì Eh la madonna Quanto lontano Me l'ha data Ma Ma Ok E qua Le asci durante i fight Ragazzi È una puttana Perché non Non riesco A starci dietro Detto proprio Sinceramente Io vorrei andare back Anzi vorrei farmi la mia giungla Ok 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 Adesso Puoi fare affidamento Sui primi due colpi Vabbè Certo Provo fare affidamento Anche sugli alterni In realtà Ok Mi sento estremamente impedito Comunque Nel giocare Nel giocare Draven In jungle Cioè In lane Probabilmente Riuscirei a performare Un po' meglio Ma in jungle Faccio veramente Fatica Oh E insomma Tutti che mi pullano Ragazzi Oh Piano raga Cioè Va bene tutto Ma qua Mi pare un po' esagerato Riusciamo a fare qualcosa Ma che ci abbiamo Noi Ma noi non ci abbiamo Un cazzo Le mi asce come al solito Vanno a puttane Vabbè Migliorerò Con il tempo Ragazzi Però non è un pick Che mi diverta Più di tanto Se devo essere sincero Cioè Sembra una partita Così tanto Tredata Questa Facciamo così Se prendi W Sono morto Se in realtà Di potercela fare Esatto Si fa così Che sfiga Vabbè Vabbè Non proprio una cima Devo dire Non proprio una cima Va bene E niente ragazzi Intanto Intanto che vogliamo dire riguardo Back Eh minchia Mi manca poco Eh niente A sto punto Finiamolo Dai Cioè Non penso che il collector Sia buono in realtà In questo In questo caso Però boh Siamo in iron Ragazzi Cioè Io Tengo in considerazione Anche questo Niente Rip Asce Sono così Concentrato A farmi A raccogliere Le asce Che mi perdo Quello che succede Nella mappa Ma come A cali 28 Ma è Afk Ah no È lì Ok Uh Eh dai Ma con Quanto HP Rimasto Aiuto Eh vabbè Non fa un culo Il collector Non serve a niente Devo Tocca treardare Sto game Ragazzi Non so Che dirvi Ma come Ma cali C'ha 28 Video Diablo Roio Mamma mia Very 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 Io non so Manco come si build A Draven Ragazzi Ma in genere Si fa la BT No Tipo una roba Del genere Boh No il collector No ragazzi Per me Mario Ok Però In partenza Sono 4-1 Quindi Per carità Non avrò dato Un giga Impatto Come jungler Però Minchi In confronto I miei alleati Qua Sono un cazzo I pro player Vedete Fieri Che ragazzo Cazzo Sei Stai Smarvando E io vi rispondo Avete ragione In teoria In teoria Con questa build Dovrei essere Abbastanza ok Contro Io non so Se devo stare qua A farmare Sinceramente Però se non divento Gigante Io cosa faccio Ma sta succedendo In top Dio Bono Guarda quanti ping Che tragedia Ragazzi Che bordeo A tutti che si pingano A tutti che si picchiano Ma che devo fare qua Ma guarda Ma Kali ragazzi Sta derankando Ma c'ha 28 33 Minima Dai Questo game qua Ragazzi Non è vincibile Nessun modo Cioè sarebbe vincibile Ma nemmeno se fossi Un bravo dragon Perché comunque C'hanno un team Con cui io Boh Non ci posso fare un cazzo Però decide Ma quanti ping Ci sono Nella mappa Ma cosa sta succedendo Ma scusa Ma hai pingato Che devi farmare top T'ho lasciato la top Vieni a farmarmi la giungla Ma sei Vabbè ragazzi Cioè Io non so che dire Sinceramente Non so che dire Pace bene a tutti E basta E pinga Di andare top Vado via dalla top Boom Va a rubare E allora Che cazzo Cazzo ti devo dire bro Niente Partito il mood Farmo tutta la giungla Eh ragazzi Va bene Eh vabbè È stata brava Però ce la facciamo Ok Perché Perché Ah ok Non ci posso andare Lì perché Non c'ho visione Boom Uff Sniperato Andiamo Andiamo Dove sta Niente Mi ha fatto perdere Le asce Però questo Ops Ops Ok Com-comprendo Eh qua forse sarebbe più la botrack Però ragazzi Boh Non so Non lo so Perfetto Andà così Mamma mia Cali Mamma mia 33 Dai ma questo qua Non può essere un player Vero Bella P Draven 6-1 Eh ok No Non ho voglia di rigiocar Draven Ragazzi Uffa Non ne ho minimamente Voglia di rigiocar Oh Quarto drago Minchia Buono Questo è solido No 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 Sto qua per il baron Che se in realtà Dovrei farmare un po' Mamma quanto è stressante Sta partita con Draven Ragazzi What? Quanto è stressante Sta partita con Draven Ok Missfortune è morta Ma Nel senso Se ma come ho preso i mezzi miei Ma è sì pazza Ma stai fuori di testa Vado a prendere questo Vado back Quanti cazzo di ping Che ci stanno in sto game Ragazzi Lo sapevo Lo sape No Questo è un The Ranker Chiaro Fammi vedere lo PGG Sto dicendo Dai non lo sto a smaitare Poi ho crittato all'ultimo Dico porca pittana Vabbè C'è ma pure il The Ranker in team Allora a questo punto Che cazzo devo fare per queste? Poi andiamo di infinity ragazzi Grazie L'only dime per i cinque mesi Bentornato caro Ah sì ma Ah sì ma Lo presidente qua Che bordello ragazzi Sì vado Basta pingare No era un 416 Sì ok Un The Ranker Sto tizio Vabbè nel senso L'abbiamo visto tutti Ecco non è che serve un genio Per capirlo Uff Ok Importante che abbia funzionato Pushiamo Ha 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 Ah come ridono queste Cazzo ridete Scimmie Scimmie Vediamo se riusciamo Ma perché attacca me la torre Sono compenetrato con un minion Ok Via 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 800 gold Sento solo dei ping in giro per la mappa ragazzi No non posso farlo più Un v9 A parte vabbè Nasus Smith è la w Ed è da Da qss Praticamente Dovrei farmela per la w di Nasus Effettivamente la qss Ragazzi Vedete che la w di Nasus È quasi come uno stun Non pensate C'è una nuova Notifica Salve sig Chiocciola fieric Sono felice di annunciarle Che guardo i suoi video Con la mia ragazza Cosa che credevo Impossibile Intanto qualcuno muore qua Servono pochi soldi ancora Però Eh no Stanno qua I nemici I miei aliati sono già morti Unlucky So se sono un po' Combattendoli Ci fosse un po' Di combattimento Invece no Sono girati istantaneamente Tutti su di me Pentagiorgia Si chiama Fabricum Non è partito il Crissurize Eh pace C'è Lux Allora Ce la posso Rip Lux attacca Nasus Lux attacca Lux attacca Qualcuno Ok Sì ma Lux attacca Prima Non Quando sono già morti Eh sì Ma scappa di qua Ok ok Oh oh calma Lux è tuo Dai bro Un cesso questo Tira gli qualcosa Lux Ma Dio Vieni da piangere Andiamo a prendere questo Per favore Mamma E tra il game di mondo E questo Raga Non so quale sia peggio Dei due Davvero No joke Costo The ranker Qua Fast bro Qua Tiriamo una flippata Della madonna Io già lo so Mamma Che flippata Che tiriamo qua Ah Uh l'abbiamo preso GG Vabbè Questo Credesco se Akkaila Prende robe Che è più utile Di me Sinceramente Ok Mi piace la call Andiamo al baron No Se Akkaili Ti piacerebbe Piacerebbe Akkaili Vero Ecco qua Kali ce la sta mettendo Tutta ma Kali ce la mette Proprio tutta ma Peccato male Kali ce la mette Ok Brutta ulti Però se tornasse indietro Non torna indietro Ah ok Urca Che autoattacco Che ho tirato Boom Bene Akkaili Non puoi nulla Ne estrai Akkaili Ne estrai Oh una perdita 33.000 Qui sono due game Anche qua Asciughiamoci il sudore Mamma mia Già ho dovuto Tragare Poi con Draven Cazzo Mi trovo lì E incasinato A prender station Che è più un cazzo In team fight Non avete idea Comunque Draven jungle Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta I Akkaili Io vado In cucina Ecco Com'è giusto che sia Tiriamo un honor a Kyle Non stayed cool Perché non c'è stata Magari anche Cool Però Dead crypted Grazie ai 60 mesi Tare gameplay Grazie al prime Molto gentili Ragazzi Grazie ai vostri abbonamenti Freschi Freschissimi Che vanno A imbottire Questo Questo sub goal Che in realtà Abbastanza fermo Per adesso Ma ci sta Adesso Vacanze Natale Recuperiamo tutto Attenzione Akali 4300 danni Pinky gatto È aggiornato la pagina Aiaiaiaia Aiaiaiaia ragazzi Aiaiaiaiaia Comunque